Lo sbarco dell'uomo sulla luna per la prima volta in HD sono trascorsi 45 anni dallo storico passo raggiunto dall'umanità uno dei momenti più emozionanti in assoluto della storia che ora viene riproposto dalla NASA in un video completamente rimasterizzato e in alta definizione. Una clip di 10 minuti dove assistiamo all'allungamento e alla prima passeggiata sul satellite grazie a un nuovo restauro della pellicola, restauro che ci mostra particolari e dettagli mai visti prima d'ora.